Un 19enne è stato fermato a Gioia Sannitica nel Casertano con l'accusa di aver ucciso a coltellate il fratello 24enne e ferito un altro di 22 anni al culmine di una lite. Il giovane che aveva attentato la fuga è stato rintracciato nella notte nei pressi dell'abitazione dove si è consumata la tragedia e ha confessato il delitto. Il fratello ferito, colpito da una coltellata al volto, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Piedi Monte Matese. Roma oggi invasa dai trattori con la manifestazione del cra agricoltori traditi al Circo Massimo e quella di Altra Agricoltura e Popolo Produttivo in piazza del Campidoglio. Un corteo con una rappresentanza di trattori è partito nel primo pomeriggio dal presidio di Cecchina, sfilando scurtato dalle forze dell'ordine fino al Circo Massimo per la manifestazione che ha preso il via alle 15. Te lo do io al Made in Italy e lo slogan della mobilitazione anticipato da un volantinaggio davanti al Colosseo. Nove i punti della piattaforma unitaria già inviata a Parlamento e Governo hanno spiegato gli organizzatori cui sono stati chiesti incontri per poterne rappresentare le richieste. La Commissione Europea ha limitato le previsioni di crescita del prodotto interno lordo dell'Italia nel 2024 atteso ora lo 0,7% rispetto allo 0,9% indicato nelle stime di novembre, confermata l'attesa di un prodotto interno lordo in crescita dell'1,2% nel 2025. Pesano il calo dei consumi e lo stop al superbonus. L'incertezza rimane eccezionalmente elevata in un contesto di prolungate tensioni geopolitiche ed è rischio di un ulteriore ampliamento della crisi in Medio Oriente, ha detto il Commissario Europeo per gli Affari Economici, Paolo Gentiloni. Salgono ancora i prezzi medi di benzina e diesel sulla rete carburante in base all'elaborazione di Quotidiano Energia, dei dati comunicati dai gestori e l'osserva prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati a 14 febbraio, il prezzo medio praticato dalla benzina a servito è 2 euro al litro, mentre quello in modalità self si attesta a 1,864 euro. Il diesel a servito è invece un prezzo medio di 1,971, in modalità self 1,836. Sulle misure che riguardano la disciplina del sequestro degli smartphone è in programma un cambiamento, spiega il ministro della giustizia Carlo Nordio. Oggi dice nel cellulare non ci sono solo le conversazioni, c'è una vita intera e questa vita non può essere messa nelle mani di un pubblico ministero che con una firma se ne impossesse magari dopo non vigila abbastanza sulla sua divulgazione. Dunque, sul sequestro di un telefonino di un PC, deciderà al GIP, su richiesta del PM e non più solo il pubblico ministero. L'annuncio arriva direttamente dall'Associazione Famiglia Arcobaleno. Sulla carta di identità dei minori, per indicare i genitori, vanno usate le parole genitore 1 e genitore 2. Questa è la decisione della Corte d'Appello di Roma che smentisce nei fatti un decreto dal Ministero dell'Interno del 2019 guidato all'epoca da Matteo Salvini. Il di Castero viene obbligato a applicare la dicitura a genitori o altra dicitura, che corrisponda al genere del genitore, sulle carte di identità elettroniche rilasciate a persone minorenni. Oltre 100 aziende per un totale di 113 marchi di tutti i settori per celebrare i 140 anni dell'ufficio italiano Brevetti e Marchi è la mostra Identitalia, the iconic Italian Brands. inaugurata a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo scopo della mostra, curata dai professori Carlo Martino e Francesco Zurlo ed esposta fino al 6 aprile, è quello di valorizzare un patrimonio industriale, progettuale e materiale di inestimabile valore per il Paese. All'inaugurazione ha preso parte tra gli altri il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. È una mostra sull'identità produttiva italiana, ben consapevoli tutti che il passato è di fatto quello che ci ha consentito di essere i produttori di eccellenza globale e quello che ci indica la strada per nuovi frutti ancora migliori nei prossimi decenni. Tra le storie imprenditoriali di successo raccontate nella mostra anche Leonardo, che tra le principali aziende high-tech globali che opera nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, realizza soluzioni che contribuiscono allo sviluppo e alla protezione di persone e territori. Da oltre 70 anni Leonardo svolge infatti un ruolo chiave nell'ecosistema industriale nazionale e delle comunità in cui opera grazie a innovazioni fondamentali per la crescita economica e sociale. Un cammino che oggi, grazie alla digitalizzazione, pone Leonardo in prima fila anche nelle capacità d'osservazione e monitoraggio globale, protezione di persone, infrastrutture, simulazione e addestramento. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di venerdì. Tempo sull'Italia sarà dominato ancora una volta dall'alta pressione presente sul Mediterraneo dell'Europa sud-occidentale, seppur questa è in qualche modo disturbata dalla presenza di una circolazione instabile proprio sulle Baleari che porterà un incremento della nuvolosità, in particolare sulla Sardegna. Più nei dettagli, osservando proprio la mappa delle nuvole, ci saranno frequenti velature in transito al centro-nord e una maggiore presenza nuvolosa sull'isola per effetto di questa circolazione leggermente più instabile a ovest del Mediterraneo ma che comunque non porterà grossi cambiamenti sul nostro paese. Infatti, osservando il tempo che ci aspetta nell'arco della giornata, avremo un contesto per lo più soleggiato su buona parte del nostro paese. Un po' di nuvolosità insisterà sulla Sardegna, sui settori occidentali alpini, al più con qualche locale disturbo. Nebbie che insisteranno invece sulle pierrone del nord, in particolare lungo il Po con temperature più contenute, mentre altrove i valori termici restano ancora una volta al di sopra delle medie di questo periodo. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Grazie a tutti.